Non è che dobbiamo copiare, no? No, no, non è il grado del signor Vecchio, però è il grado di copiare. Presidente, una produzione che associa qualità e tradizione a conduzione femminile. Aggiungerei anche coraggio, passione e creatività. La città di Amidolini è una eccellenza della nostra regione, siamo particolarmente orgogliosi di averli qui con noi, anche perché è una storia importante, di una famiglia importante, ma è soprattutto una qualità e un prodotto che ormai è conosciuto nel mondo e che abbina veramente un sapore straordinario, ovviamente, ai grandi cibi, ai grandi piatti, ma anche alla forza che ha questo nostro Friuli di creare sempre cose nuove, prodotti nuovi e anche investire molto nella qualità. Grazie a tutti! Grazie a tutti!